Angelo C'è un altro disegno No, secondo me bisogna per forza girare dall'altra parte La ci deve essere bella roba Dai, comincia a farmi la inesca No, aspetta un po', ora saliamo assì Guarda, ci sono l'ultima parte un po' di fine Fai una cosa? No Cosa fa? Signa tuo? Io tengo la macchina No? Al coltello Mo' stai prendendo? Si Vai cercarsi di patrini Ce la fai? Si Ma si vede? Si, si vede Angelo poco ciò Ti do, le dottere Ce la fai, all'altro Si 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 Atenzione Che cos'è? Un cortile Un cortile Qua hanno abbattuto un muro Mi chiamate grande No? Eh si Siamo ancora nella prima ala Qui c'è Qualcuno che ha cagato Fa caccare Forza Qui c'è il barco Su cui ovviamente non andrò mai Non si fidi Non si fidi no? Tra l'angelo Stai attento No, se scale no Non si possono fare Infatti Se scale no Aspetta che metto Puoi si mette pausa? No, no, no Tant'altro 3 ore stanno Ah, tutta la riviglia Questa è un po' Sì Si Sto riprendendo tutto Devo fare le foto in alcuni posti Si scendeva Se non c'era qua Si prende l'acquaggio Questa deve essere La cuscina Vediamo? Si Poi l'altra Quando ho scelto Non le facevo Non le trovate No Dobbiamo vedere Allora qua Si va tutti i fili Vabbè Guarda attento Bisogna continuare la strada dritta No? Dove sta avanti? Qua? Di qua No, di qua Si, di qua Possiamo andare No, di qua siamo saliti no? No, è tutto chiuso qua Alla distanza Chiusi sono? Si Impossibile E dove cazzo si va dall'altra parte del manino? Da dietro No, di qua No, di qua Eh Vabbè Reggiti al muro Io con una mano mi reggo al muro Si Si A me si quando salgo si sa mai Reggiti con una mano al muro Facciamo la colore Ed io ho messo il ventello Corso Guarda qua il terrazzo non è Che cazzo ci è il possibile che sia finito così piccolo? No, no. Perché ci sarà un collegamento, Angelo. Di qua. Sì, ma stiamo attenti anche a non mi chiedo qua. E non c'è niente, è un metro. Oh lì. Però di qua non si entra. E prendiamo da qua un po'? No, toh, fai fare due tre foto. Vaffanculo. Angelo, troppo sole. Questo l'ho visto pure. Grazie, grazie, grazie. Perché è quello che cos'era, la stalla. Eh, è così, sì. Che da fuori sembra così, no? Vedi, sta strada così l'ho vista pure sul... E forse di qua ti entra. Siamo un'apparizione. Guardateci. Sta ancora con la mano. Meno male. Però mi sembra strano che non ci sia un cazzo. Cioè, alla fine ha finito già. Eh, ma non è piccola, Angelo. Mi ricordo pure questa, vedi? di quella, la colonna sopra. Proviamo bene a entrare in quella. Aspetta un po', Angelo. La vuoi tenere tu questa? Forse, forse riprendi meglio. Mi viene la cura. Dobbiamo riuscire a capire dove cazzo non c'era. Che di qua? Sai cos'è? È impossibile. Diciamo, una volta saliti, non sento più quelle pinga che dovevamo salire, no? Eh. Però, come ti posso spiegare? Sì. Si sente che non siamo su diego, Angelo. Lo senti? Sì. No, io no. Non sento niente. Io devo cercare di capire da dove entrare. Che c'è qualcuno... Ah, che... Mi sta... Noi da qua siamo venuti. Sì. Da madonna, come ci ho corrotto. Non sembrano, no? A scenderle. E entrare di là? Da dove cazzo si va? Qui c'è un pozzo. C'è un bel buco. Da dove cazzo si può entrare? Ma perché la gente c'è la maniera delle scritte? Angelo, vedi quell'anello intaccato al giro? Strano, no? Vediamo. Vediamo, vediamo. No, no, scendiamo. Eh sì, abbiamo capito dove cazzo si va di là. Ci dovessi un'entrata che non ho capito dov'è. Occhio, eh. Appoggiati. Senti, io la spengo un secondo... ... ... ...